I comuni sulla riviera adriatica molisana e avruzzese si preparano a vivere la nuova stagione estiva in riva al mare. Gli stabilimenti hanno avviato le annuali operazioni di pulizia e ripristino dei lidi pur nell'incertezza delle decisioni politiche dall'alto. Nel basso Molise il servizio potrà essere attivo a partire dalla data di lunedì 1 maggio, come da intese raggiunte tra l'amministrazione regionale a Palazzo Vitale, il sindacato Balneatori e la capitaneria di Porto di Termoli. Una ripresa a 360 gradi dopo le ultime restrizioni dovute all'epidemia da coronavirus in lungo e largo per la penisola, probabilmente si andrà a prezzi ritoccati verso l'alto per l'affitto di sdraio e ombrelloni a causa proprio del quadro ancora nebuloso della materia in ambito nazionale. L'incertezza sul destino dei lidi per la stagione 2023 porterà quasi di sicuro ad aumenti anche se il ritorale da Pescara a San Salvo. Il governo italiano, chiamato in causa dall'Unione Europea, in fatto di concessioni demaniali marittime non potrà più permettersi ulteriori proroghe. Un disagio per migliaia di imprenditori e lavoratori stagionali a carattere economico, sociale e giuridico per mettere a bando gli stabilimenti anche a Montenero, Petacciato, Termoli e Campomarino entro dicembre dovrà essere avviata la procedura pubblica. Sembra una storia infinita, in effetti però il governo sta cercando di trovare una soluzione, una soluzione mediata che ha contenti, tra virgolette, l'Europa, che ha nella direttiva Volkestein una norma che crea dei problemi ai nostri balneari e quindi sta cercando di trovare una soluzione che sia la migliore possibile, istituendo una cabina di regia a livello governativo che faccia innanzitutto la mappatura e rilevi anche le soglie di scarsità del litorale utilizzato. Quindi è in pieno fermento ma io credo che nel giro di poco tempo si troverà una soluzione.